I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno denunciato quattro persone per ricettazione furti effettuati nei seguiti mercati da parte di sconosciuti e bottino nelle mani di queste quattro persone da qui l'accusa per ricettazione. Nello specifico i militari della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano hanno bloccato una BMW nei giorni scorsi lungo la strada statale 19 con a bordo le quattro persone. I militari del nucleo operativo al comando del tenente Martino Galgano hanno provveduto quindi alla perquisizione del veicolo e hanno trovato merce rubata in diversi supermercati soprattutto tra Atena, Lucana e Sala Consilina ma anche in Basilicata nello specifico a Lauria. I militari hanno quindi provveduto a sequestrare la merce a denunciare le quattro persone a bordo di origine georgiane accusate di ricettazione. Si tratta di tre uomini e una donna tra la rifluttiva ritrovata nel veicolo, alcuni alcolici, profumi, altri prodotti alimentari e altri prodotti rubati nei market valdianesi. I controlli in tutto il valo di Diano soprattutto lungo la strada statale 19 ma anche lungo le altre arterie del territorio continueranno anche nelle prossime settimane per prevenire i fenomeni predatori sul territorio.